Sono Silvia, sono vent'anni che lavoro alla Relegarth. Sono il Relegarth da venticinque anni, la mia passione è lavorare con i disabili. Sono trent'anni che lavoro al laboratorio Targatore Legarth e mi appassiona tantissimo, quanto mai. Lavorare la pelle stimola la mia creatività. Che bello se ognuno di noi la sera potesse dire oggi ho compiuto un gesto d'amore verso gli altri. Saranno i ragazzi.